Prende un abbriglio sbagliato Sì, 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 infatti così stiamo facendo Oh, secondo me, con la mano Gli austriaci, vedi la propria una firma? Caprato sta? E' partito in Bodeo, in Bodeo, l'aereo Eh? Cabrato, cabrato Mi piace il fumetto che si dice Vabbè, ma ora scusa Sta cabratissimo Eppure c'è una parte